Nei giorni scorsi i militari della stazione di Modica hanno tratti in arresto un trentenne di origine marocchina, residente nella Contea, disoccupato, considerato autore di molti furti perpetrati nelle ultime settimane ai danni di esercizi commerciali di Modica sorda e su cui gravava l'obbligo di dimora con diveto di uscire dall'abitazione nelle ore serali e notturne. Il giovane si era introdotto forzando la porta d'ingresso all'interno di un negozio di abbigliamento per neonati, sottraendo merce di vario genere, un tablet nonché denaro contante pari a circa 200 euro. Il tempestivo intervento dei militari in servizio di perlustrazione nel centro cittadino ha consentito grazie all'ausilio del sistema di videosorveglianza dell'esercizio commerciale il riconoscimento dell'uomo. Avuta cognizione della notorietà dell'uomo, gli operanti hanno immediatamente proceduto ad effettuare una perquisizione domiciliare che ha dato come risultato il rinvenimento di parte della rifurtiva restituita alla mente diritto. Non è la prima volta che l'uomo si rende protagonista di azioni come quella di ieri, infatti proprio nei giorni scorsi i colleghi della polizia e del commissariato di Modica sono intervenuti nei suoi confronti poiché è resosi responsabile dei furti nella quartiere sorda perpetati ai danni di un noto ristorante e di una cartolibreria. Dopo l'ennesima violazione di carattere penale, espletate le formalità di rito, l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari così come disposto dall'autorità giudiziaria. I militari dell'arma, dunque grazie all'immediata attivazione ricevuta da parte della centrale operativa, sono riusciti a ricostruire l'attività posta in essere dal trentenne. L'arresto è stato convalidato dal Tribunale di Ragusa applicando al soggetto l'obbligo di firma.